Due risarcimento dalla TIM per disservizio, uno causato dagli incendi e un altro per il mancato funzionamento della fibra. Non capita spesso, ma ora che è successo, è un importante precedente a beneficio dei consumatori. Il primo caso riguarda una signora residente incontrata a Morelli Sottani, nel comune di Patti. A causa degli incendi che hanno devastato il territorio era rimasta senza linea TIM dal 30 giugno fino alla metà di agosto, subendo gravi disagi. Dalle cronache di quei giorni è stato riscontrato come il fuoco abbia devastato tutto, abbattendo i pali dei collegamenti elettrici e telefonici. La signora a quel punto si è rivolta alla sede del Tribunale del Consumatore. Il responsabile dello sportello Telefonia, ingegnere Luca Zingales, ha avviato una trattativa con TIM, che ha riconosciuto il disagio e la responsabilità per il tardivo intervento. Per questo ha accordato la somma di 250 euro a titolo di rimborso. È un bel risultato quanto abbiamo ottenuto, tenuto conto della paura e dei disagi che molte famiglie hanno avuto in quei giorni, ha dichiarato il Presidente Nazionale del Tribunale del Consumatore Nicola Calabria. Tutto ciò ha evidenziato la professionalità del nostro sportello Telefonia diretto dall'ingegnere Zingales. Ma non è stato solo questo il risultato ottenuto dal Tribunale del Consumatore, perché Zingales ha ottenuto lo stesso giorno un altro importante risultato per il mancato funzionamento della fibra di TIM, ma i danni di un'attività economica di patti, che per 20 giorni, nel mese di settembre, non ha potuto suffruire del servizio. Qui il profilo cambia, in quanto una cosa è essere collegati alla rete come privato, a cui comunque il servizio deve essere garantito perché ormai i rapporti personali ed economici degli utenti privati passano dalla rete, un'altra come azienda che ha vitale importanza dei collegamenti per la propria attività economica e che vive all'interno della rete. L'azienda, con l'assistenza ed il supporto dei professionisti della nostra l'associazione, ha avviato l'istanza di conciliazione presso il Corecom Sicilia di Palermo, che si è svolta il 26 ottobre e che si è conclusa, ribadito ancora Calabria, con il riconoscimento di 500 euro. Qual è eco indennizzo?